Anche quest'anno dobbiamo decidere se andare un'altra volta a Betlemme. La scelta non è da poco. Significa rimettersi in gioco ancora una volta e credere alle parole di un angelo. Comporta, come già per i pastori, doversi alzare, doversi muovere, lasciare qualche sicurezza e fare un tratto di strada, magari in mezzo a qualche pericolo. È un atto di grande fede. Ognuno sa cosa significa andare a Betlemme. Ciascuno intuisce in cor suo se valga la pena tornarci. Una cosa è certa. Tra le tante proposte che il mondo ci offre, l'invito dell'angelo ha come esito la gioia. Nulla sappiamo dei pastori dopo l'incontro. Luca ci dice soltanto che andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Nonostante tutto, vale la pena riprovare, anche quest'anno, il messaggio è chiaro. Andando a vedere un bambino, troveremo anche noi Dio. Dio. Oggi, fermati per quindici minuti di adorazione di fronte al bambino Gesù, adagiato nel precipio della tua parrucchia. Dio. Dio. Dio.